Ah ah, un gioco scuro, perché non metterci la telecamera oscura? 3, 2, 1, F9, vero? Sì, 3, 2, 1... Salve a tutti e benvenuti in questo gioco horror! Finalmente un gioco horror, dopo tanto tempo, sono nell'oscurità più profonda, più mal lontano, più scompaio... Ah ah ah, ok, e giochiamo a Maere, un gioco che ho visto pochi fare in Italia, anzi non ho visto praticamente nessuno perché non ho nemmeno cercato Ma comunque siamo qui a fare questo giochissimo bello, bello che fa schifo, sto andando ai 700 fps, benissimo E ci sono anch'io, eh la pepina, ok, opzioni intanto, suoni, va bene, sensibilità, apli, retve Siamo pronti, ho paura, ho paura, cioè ho già paura Cominciamo bene Oh guarda, una stanza, siamo in una stanza bianca, guarda c'è Dio in faccia, guarda, mamma no Eh, sì Una sedia, una sedia, sediamoci mo E se dovesse andare in bagno mi scusi Cioè no, se mi scappa, ci sono di porte, apri le porte, via Come si aprono le porte, come si, come si, non posso fare niente, niente, va bene Chi sono? Oh c'è il mio nonno! Ciao nonno! Io non capisco lo scopo di questo gioco Oh guarda, prova anche tu, il nuovo dentifricio maere, sensonexprime, fai una checca Eh ma, ma se, ma utilizzate i chiodi, metteteci la vina, metteteci qualcosa, scado a pezzi sta casa, signori Oh eh madonna Oh! Ma i skinni, le, le, lu, le, le, le lumache La musciった la rencarchia Oh, o, oh, oh! 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 Ma che cacchia vuoi? Oh! Che è successo? Sono morto? Che cacchia? chi era ha perso di già ma stiamo scherzando ho già per come ho fatto a perdere c'era un tizio tutto tutto che non si può non si fa tanto quanto tempo che non faccio la doccia non faccio la doccia da 20 mesi forse quello lato sangue sti vecchi io ci riprovo anche se ho il cuore palpitazione buongiorno o ciao dio ci siamo di nuovo ma che è sono da uno psicoterapeuta che è ma che cavolo è scomparse alla stanza ma donna che hai problemi di otturazione particolare che hai madonna mia non me la sto un po facendo sotto meno male che non c'è mio padre in casa che non mi fa gli agguati da dietro meno male sì e poi se ci sono gli agguati sono in casa da solo voglio vedere chi mi prende un infarto e muoio qua in episodio lo giuro madonna non ho i brividi no no anche c'ho freddo c'ho freddo non c'è problema ma io mi chiedo dove sono i teletubbies quando servono sì no è stato l'occadi è quadro è ti ho montato bene che senso ho un tavolo in mezzo ai corridoi oh bambino ti sei perso vicino ciao caro un due tre stella eh t'ho visto però sei fermo un due tre stella oh no con le mosche blei le mosche blei le cosse francese le cosse francese è sparito mo eh ha paura ha paura sala del controllo sala ma si può vincere oppure è una cosa proprio seguire le frecce ma se certo che oh prosciutti di stagione signori che cacchio è questo è un prosciutto brutto oh vai c'è un bambino mi si è bloccato il personale si è tua sorella eh lasciami passare finghi anche le sca... ah il bambino di prima cosa? vabbè io seguo il percorso e grazie al cacchio bambino del cacchio grazie al cacchio non si apre la porta cretini che mi fa? bububu sa che te bambino che t'ho spostato stai male bambino eh scusi vorrei ordinare prosciutto cruduetti grazie ah sono io che li muovo allora sono un cretino proprio sì mi incastro nei prosciutti mo sì i prosciutti attaccano fine del gioco attaccato da un prosciutto eh con le mosci verdi sti francesini ma come cacchio si apre? porta minchia bambino che hai? hai la pervertiste è una nuova malattia che mi giri intorno sì vabbè ma fammi passare seguiamo questa strada sì tic tac tic tac che cacchio è? pass per la le mail ci sono già passate di là ah è clorologio che ora è sonno? ma non è vero sono le 13.30 si m America su un progetto benissimo gioco no c'è tant' Hugh Aspetta, dov'è il tasto disinstalla? Ma se io schiaccio mai cosa succede? Oh E quindi Evviva i bambini pervertitistici E ciao Così era un video tanto per Perché io sono un cretino Oh ciao bambino